di questa sera main event della serata 8 round da 3 minuti introduciamo il primo atleta all'angolo blu da bundapest ungeria per la propria post promotion al peso chilogrammi 71 facciamo un bell'applauso al Laszlo Hart Laszlo Hart il suo avversario all'angolo rosso al peso chilogrammi 73 per il team Chiavarini e l'invictus team per Roma e l'Italia Riccardo Lecce Riccardo da Budapest per la propria post promotion al peso di chilogrammi 71 Laszlo Hart all'angolo rosso al peso di 73 chilogrammi per il team Chiavarini e l'invictus team accompagnato dall'angolo del maestro Eugenio Ogniucci Grazie Grazie all'angolo al a att Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì.